Disclosure è, disclosure è anche questo. Ma voi pensavate mica che certi laboratori dove si fanno degli esperimenti strani con i virus, eccetera, fossero solo in Cina, fossero solo a Wuhan per caso? Pensavate questo? Pensavate questo? Perché non è che in Ucraina, in Ucraina gli Stati Uniti abbiano per caso dei depositi di armi biologiche, in tutta l'Ucraina, soprattutto al confine con la Russia, per caso? Non vi viene questo sospetto, per caso? Un sospetto, io la butto là, la butto là. La butto là, così, un sospetto, un leggero lieve sospetto. Non è che come in Cina, anche in Ucraina, soprattutto vicino al confine russo, ci fossero, fino a ieri, perché da stamattina magari sono caputti. Non invasione, ma operazione. Non invasione, ma operazione militare. Attenzione alla terminologia, attenzione alla terminologia, attenzione alla terminologia e anche questa è Disclosure. E cari amici, ne vedrete e ne saprete ancora di belle cose che non vi immaginate nemmeno. Giorgio Riccardin, il canale YouTube, Giorgio Riccardin2, il canale Muletto, sempre su YouTube, su SharkTube ci sono, e il canale Telegram, anche sempre Giorgio Riccardin. Le iscrizioni sono completamente gratuite. Disclosure è... Grazie. 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 Grazie.